Un anno difficile, uno per i tagli che hanno avuto le province con la nuova legge che io non condivido affatto, al di là di chi l'ha portata avanti. Due, noi abbiamo riconosciuto centinaia e centinaia di debiti fuori bilancio, quindi non solo abbiamo dovuto affrontare i tagli, quando abbiamo dovuto affrontare anche debiti, sentenze di debiti che sono passate in giudicato e che noi abbiamo dovuto per forza approvare e riconoscere. Penso che il momento difficile si è passato, ora si tratta di organizzare il tutto e cercare di andare avanti. Abbiamo appaltato la Cilentana finalmente, l'anno nuovo la ditta sta lavorando perché è un appalto integrato, penso che l'anno nuovo facciamo i lavori e quindi dovremmo almeno per la prossima estate aprire parzialmente o quindi alleggerire i disagi dei colori i quali vanno nel Cilento. Tra l'altro poi ci siamo trovati di fronte a un bando dell'accelerazione che non ha penalizzato solo la provincia, ha penalizzato anche un po' tutti i comuni a fare una corsa contro il tempo e cercare di chiudere entro il 31 dicembre i lavori che fatti in fretta non so poi successivamente a che cose ci ha portato. Ancora oggi gli uffici lavorano dei comuni e della provincia per cercare di chiudere entro il 31-12. Questa è stata una scelta, secondo me è vero che sono stati messi i soldi ma poi praticamente non si sono tramutati in servizi per i gettodini. Lo dice la parola stessa, l'accelerazione. L'ex giunta regionale per quattro anni è stata ferma, poi gli ultimi sei mesi si è inventata l'accelerazione mettendo in grossa difficoltà comuni e province. Le province in particolare perché le strade che noi teniamo chiusi o interrotte sono parzialmente interrotte. Si tratta di eventi franosi, quindi prima di partire con il progetto ci vuole un'indagine geologica tant'è vero che il comune di Roscinio, il sottoscritto, ha chiuso un accordo con la banca Montepruno di Roscinio che si è caricata i soldi per fare l'indagine di Gennostri e la provincia di fare il progetto. Questa è la situazione in cui viviamo. Naturalmente noi siamo sindici, siamo amministratori, sappiamo che cosa significano le difficoltà del momento. Spero, voglio un poco tranquillizzare, che per l'anno nuovo riusciamo a dare anche della risposta ai nostri dipendenti.